L'erogazione degli onorevoli Crippa ed altri, numero 3, 2994, sulle iniziative di colpetenza volte a intraprendere azioni di responsabilità nei confronti dell'attuale del precedente management di Alitalia, Paolo Niccolò Romano, onorevole Romano, a facoltà di illustrarla per un minuto. Prego. Grazie Presidente, signori Ministri. Inizio facendovi i complimenti per l'abilità che avete avuto nel far ricadere sui dipendenti la responsabilità del commissariamento di Alitalia. Siete veramente molto bravi. Non tutti ne sarebbero stati capaci. In merito all'interrogazione odierna, lei, signor Ministro, ha più volte dichiarato che Alitalia è stata gestita male, esprimendo anche giudizi poco lusinghieri nei confronti del management e definendoli incapaci ed arroganti. Ora però bisogna passare dalle parole ai fatti. Eravamo tutti pronte con le cinture ben allacciate, come ci ha consigliato Renzi, ma è stato l'ennesimo falso decollo di Alitalia. Ora, visto che Poste Italiane, la controllata dove sono depositati i risparmi dei cittadini, ha perso ben 150 milioni di euro, le chiedo quali iniziative intende adottare al fine di intraprendere azioni di responsabilità nei confronti del management di Alitalia, la cui condotta spregiudicata ai danni dell'azienda è sempre più evidente, a partire proprio dalla scandalosa vicenda della svendita degli isolotti dell'aeroporto di Londra. Grazie. La ringrazio anche per il rispetto dei tempi. Onorevole Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, facoltà di rispondere per tre minuti. Grazie mille. Come sapete ieri abbiamo posto in amministrazione straordinaria l'Italia, l'abbiamo dotata di un prestito ponte di 600 milioni di euro per evitare di lasciare a terra aerei dalla mattina alla sera, il che avrebbe provocato un danno molto più significativo dell'ammontare del prestito ponte, che è stato concesso peraltro a tassi di mercato e che serve a finanziare una procedura che ha una durata di sei mesi. Ora, per quello che attiene al quesito puntuale, lo ricordava già l'onorevole, mi sono più volte espresso sulla responsabilità del management operativo di Alitalia e non vi è dubbio che l'idea di gestire da Abu Dhabi la compagnia sia stato un gravissimo errore. Ovviamente allo stesso tempo va riconosciuto agli investitori di aver messo dei soldi, di averci creduto e di essere stati anche pronti a metterne degli altri. Ora, per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, l'amministrazione straordinaria prevede in materia di responsabilità degli amministratori l'applicazione delle medesime norme dettate dall'ordinamento per il fallimento. I commissari appena nominati adotteranno dunque doverosamente ogni iniziativa eventualmente necessaria anche con riferimento allo specifico tema della responsabilità degli organi sociali. Si aggiunge che la normativa sull'amministrazione straordinaria dispone una particolare forma di accessibilità da parte di ogni interessato alle informazioni sulle cause dell'insolvenza, essendo previsto che nel termine di sei mesi dall'apertura della procedura i commissari straordinari presentino al giudice delegato una relazione contenente la descrizione particolarizzata delle cause di insolvenza e che l'estratto di tale relazione sia reso pubblico. Grazie. I commissari valuteranno anche le responsabilità degli organi sociali. Grazie Presidente. Vorremmo segnalare due questioni. Innanzitutto, la risposta del Ministro ci lascia perplessi su quelle che siano le volontà di un Governo di andare a mettere nero su bianco chi sono i responsabili di questa situazione. Perché? Perché semplicemente mi sembra che il rispetto degli investitori e di chi ha messo i soldi sia palesemente in contrasto col fatto che hanno messo più o meno una cifra come quella di un acquisto di un Boeing e hanno portato a casa cinque slot a Londra per un valore complessivo da 70 milioni che in realtà è stato pagato al 30% del prezzo di mercato. Quindi dal punto di vista economico sono già rientrati, gli unici a rientrare dal punto di vista economico. Noi vorremmo comprendere invece come mai, nella scelta, visto che oggi sarà in mano al commissario, la possibilità di attuare delle azioni di responsabilità, come mai avete scelto i responsabili di questa crisi? Ovvero, Gubitosi è entrato soltanto nel marzo del 2017. Peccato che però ha sostenuto completamente quel piano industriale fallimentare bocciato dai lavoratori e quindi conseguentemente potevate individuare sicuramente una persona diversa. E invece pensate di individuare la persona che andava bene al management di allora, perché era lui che era stato indicato dal management di allora. Quindi se vorreste veramente andare a dare delle responsabilità, magari cercate di slegarvi da delle logiche di continuità col passato. E l'altro è evidente come il commissario Laghi, che già è commissario di Ilva, che già è presidente di Mitco, che controlla CAI, già nel 2015 e da dicembre 2014 era presidente di Mitco, allora noi evidentemente mettete una persona che poteva già sapere del controllo e della gestione di Alitalia in precedenza. Allora, la condizione è questa. Avete scelto delle persone che probabilmente, da notizia di stampa di pochi minuti fa, si dimetteranno dagli incarichi di Unicredit, di Mitco e di Consiglio all'amministrazione di CAI. Però io credo, sia sotto gli occhi di tutti, come voi vogliate, continuare a dare l'infa vitale a quei soggetti che hanno causato questo crollo e tracollo di Alitalia. Non potete pensare di dare in mano a Laghi la gestione commissariale di Alitalia perché uno degli artifici poteva accorgersi come componente del Consiglio di Amministrazione di tutte le società che controllavano e partecipano nella faccenda di Alitalia. Per noi questo è scandaloso. Sulla faccia della terra c'erano altre persone con altri profili, ma probabilmente non erano legate ai soliti rapporti bancai che di questo vi contraddistinguono.